Una trentanovena alla diciassettesima settimana di gravidanza è stata colpita da una gravissima infezione polmonare del torace ed è stata operata senza anestesia totale all'ospedale Molinette di Torino per evitare rischi per il feto. La donna si è recata presso il pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino dopo aver trascurato una polmonite. È stata trasferita nel reparto di ginecologia dove è avvenuta la diagnosi di empiema pleurico. Si è deciso per un intervento chirurgico d'urgenza ma grazie alle moderne tecniche chirurgiche ed anestesiologiche applicate presso l'ospedale Molinette della città della salute di Torino è stato effettuato l'intervento con la paziente sveglia evitando così rischi per la gravidanza. Grazie 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 Grazie